Buonasera, benvenuti. Questa settimana vorrei parlare di quanto è avvenuto in questi giorni nella nostra città. È innegabile che la manifestazione di piazza, i consigli comunali in diretta, le trasmissioni televisive nazionali ci hanno portato in un momento in una realtà che potrebbe venire definita surreale, ma in effetti purtroppo è reale e concreta. A Grigento si scopre improvvisamente che dal comune, che dovrebbe essere la sede della macchina amministrativa della città, ci sono state delle cose che non andavano, parecchie cose che non andavano. Fra l'altro arriva un anno dopo quasi le dimissioni del sindaco. Cosa sono le cose che non andavano? È inutile ricordarle, ma penso che magari possano servire per fare il futuro della situazione. Abbiamo detto che ci sono lo scandalo, il cosiddetto scandalo dei gettoni di presenza o comunque delle commissioni fantasma, ma abbiamo scoperto che questo scandalo altro non è servito forse che per nascondere il vero problema, che è quello legato invece al piano regolatore generale. E ancora abbiamo scoperto attraverso il piano regolatore generale che il problema è quello dei piani edilizi e soprattutto quello della concessione delle licenze per realizzare immobili. Ma abbiamo scoperto ancora da intercettazioni clandestine abbiamo scoperto che ci sono gestioni del comune di Grigento che vanno oltre quello che il cittadino comune viede ogni giorno. Si scopre che i poteri occulti non sono una fantasia che è stata lanciata durante la seduta del Consiglio Comunale, l'ultima seduta del Consiglio Comunale, ma i poteri forti esistono davvero. Sono quei poteri forti che riescono a fare un sindaco, a fare degli assessori, ad assegnare degli incarichi e che suggeriscono anche come poter fare soldi, come poter fare il potere, come poter aiutare la gente e il cittadino. Suggeriscono che dall'urbanistica possono derivare tante cose positive e naturalmente sono tutte tentazioni che ci sconvolgono o perlomeno che ci fanno riflettere moltissimo. Ma la reazione della gente della manifestazione di Piazza di Via Tenea, che c'è stato qualche sera fa, ha dimostrato inizialmente che era una reazione spontanea dei cittadini alle notizie negative che arrivavano. In un secondo tempo si è visto che invece all'interno della stessa manifestazione c'erano persone interessate, interessate a varie situazioni, c'erano quelli interessati alla campagna elettorale, c'erano quelli interessati ai piani costruttivi, c'erano quelli interessati alle dimissioni del Consiglio Comunale o comunque allo scioglimento del Consiglio Comunale. C'è anche gente interessata solo a fare scandalo, quelle persone che possono essere interessate a far venire le televisioni nazionali, ad apparire, ad essere presenti, a riuscire a suscitare l'attenzione anche dall'alto delle situazioni agrigentine. Devo essere sincero, di tutto ciò io resto più che sconvolto. Intanto perché non è così che si segue l'attività del Palazzo dei Giganti, perché l'attività del Palazzo dei Giganti, bisogna ammetterlo, è sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Noi come giornale La Sicilia lo seguiamo personalmente ogni appuntamento, ogni riunione, ogni giorno controlliamo albopretorio, sedute, sentiamo amministratori, sentiamo consiglieri comunali e molte delle notizie che abbiamo detto e scritto ora sono oggetto di attenzione generale. Ma il problema dei gettoni di presenza, noi l'avevamo scritto sul giornale parecchi mesi fa, il problema dell'assegnazione degli assessorati, noi l'avevamo discusso tempo fa, l'aveva sollevato lo stesso di Rosa in occasione di quella giornata in cui doveva essere fatto assessore e poi non è stato fatto più all'ultimo momento e improvvisamente. Non sono cose che arrivano improvvisamente. Quali sono i colpi di scena? I colpi di scena sono sicuramente l'arrivo delle televisioni nazionali, spontanee, probabilmente, più probabilmente chiamati, chiamati da qua stesso per farli scendere qui. Perché farli venire qui e perché discutere a livello nazionale dei problemi di questa città? Per avere delle reazioni diverse, reazioni della magistratura, le reazioni della magistratura intanto dovevano esserci già prima, ma ammesso che debbano esserci ora, su quali basi? Allora, andiamo sul gettone di presenza. Certo, sono stati fatti due sequestri, uno è la polizia e uno è la guardia di finanza, ma questi sequestri che sono stati fatti, il primo riguardava semplicemente il fatto che questi gettoni di presenza possono essere, possono aver superato l'importo che era stato stabilito, oppure che ci possono essere dei casi in cui qualcuno abbia segnalato che ha partecipato a più riunioni nello stesso giorno, oppure alla stessa riunione o al gruppo contemporaneamente, in distanza di poche ore. Sì, siamo d'accordo, ma sarebbe una cosa illegale, probabilmente, ma vorrei dire, se guardando i giornali ci si accorge che succede a Bari, a Palermo, a Gavina di Puglia, a Genova, a Torino, ma ci sono stati anche altri casi in tutta Italia, in situazioni simili, non siamo certamente allo scandalo della Regione Lazio, però va bene allo stesso, certo un minimo di attenzione ci vuole, ma che non sia un'attenzione particolare dettata dal momento contingente che stiamo vivendo in questo periodo, cioè quello delle prossime elezioni che si svolgeranno a maggio e che qualcuno vuole cominciare a gestire o a pilotare a proposito di pupi e pupari. Il secondo aspetto, che è quello del PRG, è quello che invece mi inquieta più di tutti, non tanto perché il Consiglio Comunale in questi anni, sul punto del PRG, ha avuto sicuramente delle colpe, ma anche nel senso che non è riuscito ad andare avanti. Si voleva farlo negli ultimi giorni, negli ultimi scampoli di consigliatura e si è fermato, questo anche resistendo alla manifestazione Piazza dei Cittadini, e si è dovuto arrendere alla fine soltanto dalla notizia che arrivava dal Commissario della Regione, altrimenti avrebbe cercato di portare a termine una cosa che per due anni non aveva portato a termine. La terza cosa è quella della registrazione. La registrazione, per quanto riguarda gli aspetti penali, non mi pare, ce ne siano naturalmente, non sta a me dirlo, ma non mi pare che ci siano degli aspetti penali, degli aspetti inquietanti dal punto di vista sicuramente della morale o della politica, certamente, perché sentire che la gestione del Palazzo di Città non è stata fatta in questi anni dalle persone che noi pensavamo e non erano gestite neanche dai partiti politici, ma che c'erano dei famosi pupi e pupari che gestivano la situazione, la cosa mi inquieta molto. Naturalmente anche questa è tutta una situazione in evoluzione che dovrà essere stabilita dalle forze dell'ordine, per quanto riguarda gli aspetti penali, dalle forze politiche, dal punto di vista politico, dall'aspetto morale credo che nessuno se ne occuperà invece, resterà così. Qual è il mio rammarico? Il mio rammarico è che in un momento in cui ad Agrigento si lotta, si discute per tanti problemi, uno quello che riguarda i giovani e il loro futuro, l'altro il momento dell'immagine della città in cui si sta investendo una piccola somma, ma sicuramente si sta investendo per dare un'immagine migliore di questa città che gravita sempre negli ultimi posti delle classifiche a livello nazionale, ci si accorge che siamo riusciti in un paio di settimane a distruggere qualsiasi speranza che noi potevamo avere di dare un'immagine migliore di questa città di Agrigento. Spero però che gli sforzi dei nostri giovani nei prossimi giorni non si limitano ad apparire in televisione o a concentrarsi sulle prossime liste di campagne elettorali a sostenere che i sindaci o consiglieri vari, sempre al contrario, che questi giovani si possano preoccupare un po' di più del loro futuro e del futuro di questa città, che non è solo ed esclusivamente affidata alla politica o al Consiglio Comunale. ci sono tanti altri aspetti che merito uguale attenzione da parte loro.